Un career day dedicato alle professioni del mare che vedrà la partecipazione delle principali compagnie di navigazione aderente all'assarmatori. Questa mattina presso la sala consigliare di Palazzo Baronare a Torre del Greco, la conferenza stampa di presentazione dell'evento che andrà in scena venerdì 12 aprile dalle 9 alle 13 nella sede dell'incubatore Stecca nell'area degli ex molini meridionali Marzoli a Via Calastro. Un'occasione per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per tutti coloro che sono interessati ad avviare una carriera lavorativa a bordo delle navi che in questa occasione potranno incontrare e colloquiare con i referenti delle compagnie di navigazione. Noi siamo molto felici di questa iniziativa su cui stiamo lavorando da tempo che è la nascita di un incubatore del mare, un progetto speciale dell'incubatore Stecca che ha la funzione di valorizzare quello che è l'ecosistema sociale ed economico legata alle professioni del mare. Noi siamo un incubatore che è nato con una forte connotazione territoriale, il nostro modello di lavoro si rivolge soprattutto alle imprese e alle fabbisogno delle imprese del territorio per cui non potevamo prescindere dal rapporto speciale che Torre del Greco ha col mare e quindi lavorare su una verticale dedicata all'economia del mare. Siamo lieti che il Comune di Torre del Greco abbia sposato questa nostra visione e che abbia accompagnato fin dal primo momento questa nostra visione che quindi lavorerà sia sulla valorizzazione delle competenze che sulla nascita e rafforzamento di servizi e start-up a vantaggio e beneficio dell'economia del mare. Il Comune ha voluto fortemente questo tipo di manifestazione perché quando parliamo del secondo compartimento marittimo è uno dei più grandi d'Italia, parliamo di una città che è sul mare, parliamo dei marittimi purtroppo anche con tutte le proprie problematiche e non puoi non essere felice quando accadono queste cose, cioè di parlare con gli armatori, di parlare con la stecca, di creare sinergia affinché i lavoratori possano soffrire anche dei costi di formazione che mettono a loro agio e anche da spese, ovviamente perché costano i costi di formazione, i ragazzi che vogliono intraprendere l'attività di marittimo. Venerdì gli studenti delle scuole ma in generale chi è alla ricerca di un'occupazione potrà incontrare i responsabili delle compagnie di navigazione associate ad assarmatori, potrà parlare con loro, potrà lasciare il curriculum, chiedere informazioni, tutto questo per facilitare l'incontro fra la domanda di lavoro, di lavoro marittimo che a Torre del Greco è particolarmente sentita e ha una rilevanza storica e l'offerta di lavoro che offrono le compagnie che in questo momento soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva è particolarmente impellente, particolarmente urgente. C'è da dire che chi si avvicinerà a questo percorso potrà contare su una formazione finanziata anche grazie a un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che abbatte sia i costi che un bel po' di burocrazia che era quello che fino a questo momento magari faceva un po' da tappo in questo incontro fra domanda e offerta di lavoro. Assarmatori ha voluto avvicinare queste due realtà con una serie di career day, questa di Torre del Greco sarà la seconda tappa dopo quella di Livorno. Grazie a tutti!